ciao sono alessandro mengoli cooperativa sociale anima siamo a san marino di ventivoglio al parco di villa smeraldi museo della civiltà contadina noi principalmente siamo una cooperativa sociale di tipo b e il nostro obiettivo appunto è l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate dove l'inseriamo e come allora il grosso presso la locanda smeraldi e quindi inseriti in cucina lavaggio al bar al fare i camerieri tutte queste cose qua e inoltre cosa abbiamo abbiamo la gestione di un parco quindi manutenzione del verde dell'erba i bidoni e tutte queste cose qui abbiamo un'azienda agricola abbiamo un pomario facciamo le pulizie per il museo la biglietteria tutti questi servizi qua vi aggiungo la pasta fresca che è una cosa che è partita con il covid e stiamo sperimentando e sta prendendo molto piede e noleggio biciclette tutte varie attività che servono per riuscire a inserire i ragazzi il sogno per il futuro potrebbe essere intanto continuare e migliorarci sempre riuscire sempre a aumentare i percorsi e molti riuscire a dargli una base per chi riusciamo assumerlo noi o per riuscire a trovare lavori occasioni lavorative anche in altri posti e in altre aziende l'altro punto interrogativo che potrebbe essere positivo negativo è si continua qui si fa una locanda 2 a bologna si si cercano altre strade boh tutti questi esperimenti qua che pian piano vedremo come fare ecco